a decidere quando si rimette in gioco il pallone subito brischetto la scodella in mezzo dove trova subito il possibile e c'è il vantaggio vantaggio di duro per gli anni nuovi Ciampino quarto minuto di gioco in supporto dalle retrovie anche Riso ci prova a trovare Faria il gioco di gambe il tiro finisce a terra Morella la finta con il corpo ancora gli si oppone Sebastiani Faria il tiro c'è il vareggio vareggio di Riso alla minuto perde il pallone lo recupera ancora il mintuno ci provarete il vantaggio sulla finezza chiedo scusa duro sul pallone avanza il Ciampino fa tutto da sera e gol è il pareggio del Ciampino una bordata all'incirca di quest'ultimo verso Moroni arriva anche in supporto in mordino Moroni il diagonale trova brischetto pallone messo in mezzo respinto da stanziale con Moreira Faria e c'è il gol il vantaggio sul sombrero da parte di Faria al ventesimo della ripresa bello gesto poco meno di due minuti ci prova in mordino il diagonale la rete in mordino ventinovesimo della ripresa grazie